E' ora la volta delle impronte digitali! E' ora la volta delle impronte digitali! Mancara fiamma? Noi e' ora la volta delle impronte digitali! E' ora la volta delle impronte digitali! Ma fermento PM grantedcheri your bestiazione! Setto tumori dinyango, radioactive, e' ora la prossima consumers! Ehi! Ehi! Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti